Ciao grandissimi, benvenuti su Fustories, io sono Leo, oggi sono qui per raccontarvi quello che mi è successo circa un mesetto fa. Ho preso i semi da tre mandarini Nova, per chi non sapesse cosa sono i mandarini Nova, sono degli ibridi, diciamo di mandarino, che sono leggermente più grandi, molto saporiti e molto molto buoni. E mangiandoli ho trovato questi semi che ho deciso appunto di seminare separatamente, ok? Ogni frutto, diciamo, aveva un suo spazio differente di semina, in modo da dividere, diciamo, tutte e tre le tipologie appunto di semi. Ero consapevole del fatto che comunque sarebbero state piante tutte molto differenti per via del fatto che la pianta originaria è un F1, no? Quindi le F2 di solito sono piante molto instabili, no? Con il patrimonio genetico che fa le montagne russe, ok? Quindi sapevo che sarebbero diventate tutte piante molto differenti, ma mai mi sarei aspettato di trovare delle piante albine, ecco. Questa è la novità che la cosa che vi volevo raccontare. Però solo i semi di uno di questi tre frutti ha prodotto queste piante albine. Si vede molto bene, nel vaso ci sono tre spazi, ognuno dedicato agli altri semi, e si vede proprio gli agrumi albini sono rimasti lì nel suo triangolino. E quindi c'è stata una mutazione genetica soltanto in un frutto. Però a parte questo colgo l'occasione per spiegarvi cos'è una pianta albina. Il termine albinismo non viene utilizzato soltanto per gli animali, ma viene utilizzato anche per le piante. Anche se il fenomeno nelle piante è molto più raro rispetto a quello che si può incontrare per gli animali. E mentre per gli animali la colorazione bianca è dovuta all'assenza di melanina, all'assenza di produzione di melanina, nelle piante naturalmente la melanina non c'è e si parla di mancanza di clorofilla. Appunto le piante rimangono bianche perché non c'è clorofilla. E soprattutto questa colorazione non è certo da accostare a una carenza nutrizionale, ma è semplicemente una mutazione del DNA, quindi della genetica della pianta. Non è assolutamente migliorabile attraverso, diciamo, concimi o altro. Ecco, questo volevo essere chiaro. Devo darvi però anche una notizia molto triste, no? Perché molto probabilmente queste piante andranno incontro alla morte. Perché mentre per gli animali comunque l'assenza di melanina non li costringe, ecco, diciamo, alla morte, per le piante naturalmente la clorofilla se è assente totalmente non permette alla pianta di fare la sua fotosintesi, no? E di conseguenza andrà a morire sicuramente. Ci sono però alcuni casi in cui queste piante, appunto, sopravvivono. Non so se avete mai visto alcune piante che hanno, diciamo, sia chiazze bianche che chiazze verdi. Queste piante si chiamano chimere perché, appunto, hanno, diciamo, queste due colorazioni, ok? Questa cosa li permette di fare un minimo di fotosintesi perché, appunto, ha sia una parte che funziona che una parte, diciamo, è ancora bianca senza clorofilla. Quindi vanno un po' più lente però, diciamo, riescono a sopravvivere e andare avanti. Ed è per questo, insomma, che esistono le piante variegate, no? Anche per gli agrumi esistono tante piante variegate, ovvero che hanno questa foglia verde scura con la parte bianca e sono anche molto belle da vedere. E poi, sinceramente, spero, insomma, una delle mia sia una chimera in modo da riuscire a portarla avanti visto che, comunque, sono belle piante. Di certo queste non le coltivi per il frutto ma, diciamo, per la bellezza estetica che è notevole. E quindi, insomma, niente, ragazzi. Non vi ho detto niente, appunto, nell'episodio, quello dell'aggiornamento degli agrumi perché questo era un caso talmente tanto raro che ho deciso di farci, appunto, un video a parte perché, secondo me, ne valeva la pena spiegare anche un po' l'albinismo nelle piante visto che è una cosa super super rara perché anche tempo fa, sul gruppo Telegram, trovate il link in descrizione si parlava di questa cosa dell'albinismo, no? Perché tutti mi dicevano eh, vorrei trovare l'avocado albino che è davvero molto bello, no? però è una cosa talmente tanto rara che in pochissimi hanno, ok? Cioè, dovreste proprio prendere tutti i semi di avocado e metterli tutti, capite? E scoprire se, appunto, questo riesce a sopravvivere poi, ok? Quindi, diciamo che sì, bellissimo, però bisogna vedere se poi riesce a sopravvivere perché se fa una fatica immensa per poi avere una pianta che va a morire insomma, non è proprio il massimo della vita, ecco Comunque, io ho intenzione sicuramente di portare avanti queste piantine visto che sono davvero molto molto belle e soprattutto, insomma, ho notato che alcune sul gambo hanno un po' di colorazione verde e questo mi fa ben sperare, no? Perché sicuramente e probabilmente hanno la possibilità di fare quel poco di fotosintesi diciamo che le aiuta a sopravvivere anche perché, insomma, vedere una cosa così rara che poi va a morire non è proprio bellissimo quindi porterò avanti tutti, anche gli altri che non sono albini perché, insomma, mi interessa vedere quello che viene fuori, no? Nella... questa mescolanza genetica perché, veramente, l'F2 è una roba... io me ne accolgo con i peperoncini cioè l'F1 trovi tutte le cose abbastanza uguali poi passi di generazione all'F2 e c'è cose completamente differenti, avete? Quindi mi immagino che anche negli agrumi succeda più o meno la stessa cosa, ecco quindi vedremo insieme quello che viene fuori e vedremo soprattutto queste piante albine come andranno avanti naturalmente vi dirò tutti gli aggiornamenti sempre qui sul canale e quindi niente, ragazzi, insomma, siamo arrivati alla fine di questo video mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra su queste piante albine se a voi vi è capitato magari qualche volta di seminare e trovare, appunto, una pianta di questo tipo poi, naturalmente, ragazzi, se vi fa piacere e non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti e carico carico davvero tanti tipi di contenuti tutti relativamente al food dalla uscina all'orto ai viaggi, insomma tutto quello che gira intorno al cibo lo trovate qui su Food Stories poi, ragazzi, qui sotto in descrizione come vi ho detto anche prima trovate il link a tutti i miei social compreso Telegram dove, appunto, potete parlare con tutti gli altri ragazzi che trovate, appunto, sul gruppo siamo circa un centinaio poi, naturalmente, ci sono anch'io se avete qualche domanda potete farmela senza problemi e noi, ragazzi, come sempre ci svedi a un prossimo video sempre qui su Food Stories Ciao, ragazzi! 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 Grazie a tutti.